Al di là della nostra richiesta al TAR dopo tanti anni ci siamo accorti, noi del Nopeos, Gela, Licata, Butera, Palma di Montichiario e Agrigento, nonché delle ex province Agrigento e Caltanissetta, in contrasto a questo scellerato parco eolico, abbiamo notato che da parte della società, ma soprattutto anche del Ministero, non vi è stato il rispetto della legge 152 che consente i limiti minimi dalla costa, perché la proponente ha creato un progetto di 2 miglia circa, mentre la legge parla di 3 miglia minimo. Al di là di questo non si sono neanche tenuti conto dei vincoli archeologici sottomarini, in cui la chiara espressione della sopredendenza al mare non è stata presa in considerazione. E' tutta una serie di cose che ci fanno pensare come non vi sia da parte sia del Ministero che della società un tener conto di tutte queste normative e anche di quelli che sono i vincoli per quanto riguarda proprio la costa, che ha una sua caratteristica devota agli stabilimenti balneari, alla bellezza, alla tutela del paesaggio. Dunque così facendo si distruggerebbe sia la flora che la fauna marina? Altro che ci sarebbero danni ingendi ma non solo, saremmo anche multati da quelli che sono i parametri diciamo europei che dicono tutt'altro, perché anche l'istituto LISPRA sostanzialmente per la ricerca e l'ambiente, che è anche un istituto che lavora insieme al Ministero, che cammina di pari passo alle normative europee. Cioè realizzato questo parco che è una mera speculazione economica, parliamoci chiaro, perché non produce quell'energia e non è neanche idoneo, ripeto, alla costa, farebbe anche scattare non solo una devastazione negativa diciamo sull'assetto turistico e balneare, ma bensì creerebbe anche delle sanzioni da parte dell'Europa. Quindi ci sono diverse diciamo incongruenze.